Il destino fumoso del CSTP torna nuovamente in consiglio comunale su proposta della minoranza che si è fatta portavoce del malcontento di numerosi cittadini. Presente in aula infatti anche una nutrita rappresentanza di pendolari che hanno fatto sentire le proprie rimostranze. Alla fine, dopo un'animata discussione, il parlamentino ha redatto un apposito ordine del giorno con il quale si chiede alla Regione Campania di valutare la possibilità di programmare gli investimenti necessari per inserire Cava dei Tirreni nel circuito della metropolitana di Salerno. Allo stesso tempo alla gestione commissariale del CSTP viene chiesto di escludere il deposito di via arti e mestieri dal piano delle alienazioni dell'azienda. Unanime tra maggioranza ed opposizione la preoccupazione del mantenimento dei livelli occupazionali. Il consiglio comunale, maggioranza ma anche opposizione hanno a cuore il problema del trasporto pubblico. Sappiamo che il 19 aprile si chiuderà la gara d'appalto che porterà comunque alla privatizzazione del servizio e noi dobbiamo garantire tre cose principali. Prima di tutto che i posti dipendenti siano salvaguardati, che le tariffe non aumentino e che le linee per cavati di treni siano confermate o addirittura incrementate e possiamo farlo facendo delle proposte concrete a chi vincerà questa gara. Sono seriamente preoccupato e siamo seriamente preoccupati del livello dei servizi da garantire ai cittadini utenti del servizio e anche del mantenimento dei livelli occupazionali. Perché dico questo? Perché nel momento in cui tra fine aprile, inizio maggio, metà maggio, quando il servizio sarà affidato al privato che concorrerà e che rileverà il servizio, allora la Regione continuerà a contribuire per il trasporto pubblico locale considerando che ad oggi circa il 50% del servizio effettuato sul territorio è garantito con fondi regionali. Noi ci dobbiamo impegnare perché dobbiamo fare in modo che il deposito, che è costato tantissimo, è costato sacrificio veramente, noi ci abbiamo rimesso tantissime risorse finanziarie per poter consentire l'operazione a CSTP di realizzare quel deposito che rimanga a cavo dei riteli.